Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video che come avrete potuto vedere dal titolo sarà un video challenge con mia sorella cioè la Whisper Challenge che consiste nel mettere delle cuffie a testa una volta, una volta con della musica ad alto volume e l'altra persona deve capire che frase sta dicendo l'altro e questo direi di non perdereci in chiacchiere e iniziamo il video Partiamo col primo, la canzone è già attiva, giusto Chiara? Chiaretta? Mi ascolti? Ok E iniziamo col primo, con la prima frase Allora Chiara? Allora Chiara Qual è il colmo? Qual è il polmo? Il polo? Il polo? Il polo? Qual è il colmo? Qual è il? Colmo Colmo? Collo No, collo Collo No, collo Collo Per un Per una Per una Per una Un Una Un Un Paracadutista 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 Per un Co Paracadutista vado a bere il in la cioccolata calda la cioccolata calda e allora non era il con i miei amici con i miei amici è finita si mangi un punto per te e vediamo chi vince in questa sfida secondo me vincerò io vincerò brava vati 5 grammatica perfetta come sempre secondo per chiara che cosa ci fa che fa non che fa ci 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 fa no ci fa ci fa ci fa ci fa punto portone su fa al tiglio della quali mi ascolti? si mi senti? si come mi senti? si no non ti sento vieni ci fa ci fa ci fa ci fa brava ok una tv una tv al mare al mare va va in 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 onda 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 brava con tanto entusiasmo come sempre chiara qual è un colmo? qual è un colmo pollo? colmo colmo colmo? colmo ok colmo della carlina 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 no gallina carlina guarda la mia bocca gallina 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 carlina carlina gallina gallina gallina? si ok avere avere avere? avere tante penne tante grande tante di perriana grande tante tantissime tante tantissime tante tante si penne perle penne perte penne 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 segui la mia bocca penne pelle penne penne la penna penne penne petto penne penne e e nonno 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 mamma guarda non nonno 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 ok saperlo saperlo a parte saperlo 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 i capelli i capelli seguire la mia bocca saper seguire la mia bocca saper e per saper caper saper 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 scrivere 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 si ok è finita si chiara 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 giorgio chiama chiara terra chiama chiara pronto ci sei eh si ok è morto è morto l'inventore l'infentore 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 l'infettore l'inventore l'infentore farli troppo male non sento eh non devi sentire infatti l'inventore l'infettore il difettore il difettore l'inventore difettore non il difettore l'inventore l'amantore l'inventore 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 brava ok delle bic delle bia 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 bica biblioteca biblioteca è arrivata bic oh pronto che bic metallo bic bicchiere bic bia bic bic chi ha rimesso chiara no non chiara chi ha chi cia rimesso romanzo 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 romantico 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 rimesso ronaldo 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 cia ronaldo sicuro rimesso rimetto rimetto rimesso rivettore è arrivata di vettore di nuovo rimesso 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 rimettere rimesso metallo è arrivata cacca rimesso 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 rimetto no rimesso 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 ok le penne le penne le penne le penne colmo comodino l'hai detto prima colmo topo colmo pollo colmo colmo si della der della della si rana rana della rana 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 ragno ah della rana si sputare spensierare sputare 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 si il 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 rospo 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 il rospo 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 crosto rospo rospo te rendi non ospo te rendi che te rendi no non mi arrendo ok rospo rospo si ah 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 allora come avrete potuto capire il video è finito ed è finito in parità in pratica abbiamo vinto entrambe abbiamo perso entrambe non lo so comunque abbiamo finito in parità però prima di concludere il video devo salutare devo salutare diverse persone non più tre ne bacio di più non so quante vedrò allora saluto Miriam Fassari Sofia Lamd Sofia Devi Sofía Devi e poi Aurora Vinci e Aurora Vinci vi saluto un bacione enorme muaaaah direi che il video può finire qui ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella no anzi per la campanella sola perchè dindonna basta si sto fatta di dire dindonna squarella mettete like commentate condividete con il dislike c'è un pezzo prima fate tutto quello che volete tranne il dislike spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao guarda è abbinata alla mia maglietta le calze è abbinate alla mia maglietta pesciolino 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 no pesciolino che è? pesciolino guarda la mandala no 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 nessuno stoppa nessuno stoppa ancora restiamo un poche in moda no 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 vai insieme 3 2 1 ciao a tutti amici ciao a tutti amici ma se lo dico in questo nuovo video si ciao a tutti amici